Dal Cenacolo Gesù si portò con gli Apostoli a Getsemeni, sul pentio del Monte degli Ulivi. Vi si ritirava molto spesso, direi quasi tutte le sere, tutte le notti e questa volta ha un significato particolare. E' finito il pranzo di Pasqua, Gesù ha istituito l'Equaristia, ha dato la testimonianza di lavare i piedi agli Apostoli, dà quasi il via a Giuda di fare quello che aveva progettato e poi invita gli Apostoli a andare via dal Cenacolo e ricarsi al Getsemeni. Nulla di straordinario perché, come ho detto, spesso la sera dopo la cena si recavano al Getsemeni. Arrivato nell'Orte degli Ulivi, Gesù dice agli Apostoli fermatevi qui e pregate per me. Poi sceglie tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni e sinoltra nell'Orto. Sedetevi qui, io vado a pregare. La narrazione dei Vangeli nota tre circostanze che permettono di intravedere l'immensità di tale sofferenza. Gesù si lamenta con gli Apostoli e dice, la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. A Pietro, Giacomo e Giovanni Gesù dice queste parole. Mai pronunziate da Gesù, ha sofferto, gli Apostoli conoscevano, sapevano che tante volte soffriva, ma mai un'espressione così accorata. La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. E cade il silenzio, il peso della sua missione di Redentore che spesso gli oppremeva l'anima. Egli che necenaco l'aveva cercato di consolare e di dare coraggio ai suoi Apostoli, ora li sbalordisce con un lamento. La mia anima è triste fino alla morte. Egli prega di stare con lui, di non lasciarlo solo, restate qui, pregate con me. Il figlio di Dio, il Messia, che era sceso dal cielo e sulla terra per salvare l'umanità, che dice a degli uomini buoni, generosi, tutto quello che vogliamo, ma a degli uomini, Gesù a questi uomini dice, aiutatemi, statemi vicino. È una pagina terribile della sofferenza di Gesù. Dopo aver manifestato ai suoi tre Apostoli, la desolazione dello Spirito si prostra con la faccia a terra e prega, Abba Padre, a te tutto ti è possibile, allontana da me questo calice. Gesù era venuto sulla terra per bere questo calice di morte e adesso ha paura, trema. Padre buono, Abba Padre, abbi pietà di me, allontana da me questo calice. Tutte le volte che Gesù aveva parlato della sua passione, aveva sempre dato come un senso di gioia, di attesa. Ma quando è che arriva questa passione? Adesso che è arrivata, soffre. Ho da ricevere un battesimo e non vedo l'ora che si compie. Chiedo al Padre che è possibile allontanare da sé quel calice tanto amaro. Come deve trattare indicibilmente amaro il calice presentato gli dal Padre? Gesù suda sangue. Nell'anima del Salvatore aumenta sempre più lo strazio e due volte si alza e vacilla. Si appressa ai tre discepoli per cercare aiuto e conforto. Alla fine un sudore freddo, un sudore di sangue che esce da tutti i pori. È un momento tragico, terribile. Quelle gocce di sangue che scendono lentamente sul volto pallido e insuppano le vesti e cadono a terra sono il prezzo della sua passione e morte per ciascuno di noi. L'agonia del Cenacolo, quindi, è un'agonia terribile, sfammodica. Padre Pio a Benafro ha qualcosa di serio, di tragico. Una mattina vede Gesù che gli si presenta con il petto aperto e la piaga del petto sanguinante. E Padre Pio a vedere questo spettacolo grida a Gesù, No, Signore, non apparirmi mai più così, perché io muoio soltanto a vederti soffrire in questo modo. E poi chieda aiuto a Gesù perché possa partecipare anche lui alla passione che Gesù stesso sta vivendo. Grazie. Grazie.